MSC lancia un'OPA per acquisire il 49,9% di HALA. A comunicarlo con una nota ufficiale è lo stesso gruppo terminalistico tedesco Hamburger Hafenun Logistik che nel porto di Trieste controlla la piattaforma logistica base per il futuro Molo VIII. La notizia diffusa stamani rappresenta una vera e propria bomba per il comparto e prospetta importanti e rivoluzionarie ricadute sul nostro scalo, dove il terminal container del Molo VII di Trieste Marine Terminal è già in mano a MSC all'80%. Appena una settimana fa la compagnia guidata da Gianluigi Aponte ha varato proprio a Trieste la meganave da 24.000 T Unicola Mastro. Nell'intervista rilasciata in quell'occasione il presidente Diego Aponte sembrava semplicemente confermare le intenzioni di crescita del porto attraverso l'allungamento del Molo VII, ma l'offerta d'acquisto delle azioni di HALA getta una luce diversa sulle sue dichiarazioni. Il futuro è chiaro, l'abbiamo dimostrato, dunque stiamo andando avanti con tutti gli investimenti dovuti per far sì di Trieste che rimanga ancora un porto super competitivo. C'è il pescaggio e dunque verremo sicuramente negli anni a venire con questa nave qui non solo per fare il battesimo della nave, ma ci verremo qui per fare delle operazioni commerciali. Di fatto, se l'operazione fosse portata a termine, la piattaforma logistica potrebbe diventare un terminal cogestito tra HALA e MSC.